È considerata l'astronascente del realismo mondiale, è l'australiana Molly Taylor, 25 anni, che questo weekend parteciperà alla quinta Ronde Val d'Orcia, prima gara dell'ormai affermato campionato Race Day Ronde Terra. Al suo fianco ci sarà Giacomo Ciucci, il navigatore lucchese che per la prima volta sarà alle note di una ragazza. Un'occasione davvero importante per Giacomo perché dopo due anni nella VRC Academy, Molly Taylor ha vinto l'Eddy's Trophy, confermandosi la più forte tra le migliori promesse del rally femminile. Ma è una prospettiva buona per me perché Molly Taylor è un'australiana che ha già vinto quest'anno il campionato europeo dedicato alle ragazze, quindi è la vera promessa del futuro mondiale per i rally e ha un po' gli occhi addosso da tutto il mondo, sia dalla federazione australiana sia dalla federazione internazionale. Per me è una bella vetrina perché poter navigare lei o vedere un italiano che naviga in inglese, insomma, è una prospettiva anche per me per il futuro, per poter uscire all'Italia. Come è arrivata questa possibilità? Ma è arrivata grazie al team praticamente che è BP Racing, è un team a cui sono molto affezionato, che è qua di Montecatini. C'è stata questa occasione, visto che lei non ha il suo navigatore inglese disponibile per questa occasione, mi è stato chiesto se me la sentivo navigare in inglese, ho accettato, abbiamo già fatto una piccola prova per vedere come si andava e è andata già molto bene, insomma. Non è tanto il parlare in inglese, ma sono le note in inglese che bisogna veramente pensarle subito in inglese perché non c'è tempo di pensarle in italiano e tradurre in inglese. L'equipaggio Tello Ciucci avrà a disposizione una Citroen DS3 gommata Pirelli. La Ronde Valdorcia sarà per Molly Taylor una gara test per provare varie soluzioni di setup in vista del Rally del Galles, ultimo appuntamento del Mondiale.